Ciao! Mi chiamo Naja e questo è un giorno della mia vita in Italia. Quindi la prima cosa che faccio è dicendo buongiorno a Leo. Lui è bellissimo. E poi camminando verso la mia scuola. Questa è la stanza per i miei corsi a Middlebury College. È così bella, vero? Adesso sedersi per la mia visione. Dopo mangio la collusione. Ecco il mio cappuccino e la mia omelette. Io sto anche provando a leggere per l'università. Poi faccio i miei compiti al caffè. Dopo quello ho bisogno di tempo per divertirmi, quindi incontro i miei amici per i cocktail. Adesso ho una cena leggera con la mia famiglia ospite. E l'ultima cosa che faccio è andare in un jazz club. È il mio posto preferito dove andare. Guarda le mie amiche ballare. E questa è la mia vita in Italia. Grazie per aver guardato. Ciao! Ciao! Ciao!